L'incredibile guerra del teatro a Teramo tra ACS, gestore del comunale, e l'associazione Primo Riccitelli fa segnare un altro colpo di scena. La Riccitelli, che lo scorso anno contava oltre 2.000 abbonati, conferma la sua stagione di prosa 2017-2018, spostandola al palazzetto dello sport di San Nicolò a Tordino, dove aprirà con Gabriele Lavia il 7 novembre prossimo. Ad annunciarlo è il presidente Maurizio Cocciolito, particolarmente provato da una vicenda pasticciata e con strascichi legali, che sta mettendo a dura prova la tranquillità dei vecchi e nuovi abbonati. Una nuova avventura, una nuova situazione, andremo in un luogo molto bello, che consente il posizionamento di un palco di 14 metri per 12, molto grande, ben più grande di quello dell'attuale teatro comunale, quindi le scene saranno posizionate al meglio. Ci saranno 800 posti per gli spettatori, saranno 800 sedie non in plastica, ma saranno sedie imbottite, ci sarà servizio bar, servizio guardaroba, ci saranno degli autobus che andranno a prendere i nostri abbonati, quelli che sono abituati generalmente vengono a piedi al teatro comunale, riporteremo al termine degli spettacoli, andremo a prendere con degli autobus gli studenti delle scuole e riaccompagneremo al termine sempre degli spettacoli, insomma una situazione nuova. E nella stessa data dello spettacolo di Gabriele Lavia in programma per la Riccitelli il 7 novembre a San Nicolò, Abruzzo Circuito Spettacolo annuncia al teatro comunale di Teramo la dodicesima edizione di Interferenze, un tour suggestivo di danza e musica attraverso spazi inesplorati. Quest'anno Interferenze che vivrà gli spazi inesplorati del teatro comunale di Teramo, quindi ci sarà questo tour suggestivo attraverso spazi conosciuti e anche quelli sconosciuti e degradati, che si vestiranno di una nuova luce attraverso la performance. E la Riccitelli riflette che invece il teatro comunale è chiuso a chiave per loro? No, assolutamente è un teatro apertissimo e chi legge i giornali e chi frequenta il teatro, già visto, ha potuto vedere da più o meno 15 giorni a questa parte, di quante sono state le manifestazioni nate anche in collaborazione con altre associazioni. La Riccitelli si sposta al parasporto di San Nicolò, la CS ha vinto. Intanto sicuramente sono felice di restare ancora qui, che la CS resti ancora qui, perché ci è stato detto di tutto, che ci avrebbero cacciato, quindi invece come si può vedere siamo qui e siamo operativi, pronti per questa avventura che ci accompagnerà per i prossimi 12 anni. La voglia è quella di costruire insieme la città e interferenze sarà uno step importante per questo.